Il francesco chiede quanto manca al sassuolo basta anche il pari e poi al sesto minuto di recupero Missiroli mantiene la freddezza e trova il gol e libera tutta la sua gioia di Francesco ormai è fatto. Un finale così non si poteva immaginare ma io penso che se avessero fatto un film da genere un thriller migliore non sarebbe uscito. E' veramente stata sofferta ed è giusto essere così perché noi l'abbiamo portata a soffrire in questo modo e non potremmo che vincere noi questo soffrendo andando sotto creando sempre tanto magari mangiandosi qualcosina però pubblico stupendo ma di sassuolo ragazzi gay non straordinari di più sempre. Senti appena hai visto la palla dentro hai capito che era finita e dici finalmente va dentro che cosa è rimasto qua dentro nel cuore la prima cosa una dedica. Hai visto che vi rivincitai l'avuto. Il mio primo pensiero è andato a Riccardo mio nipote che non c'è più e la sua famiglia. Lo porto nel cuore è morto a 24 anni e la vittoria è per lui. La vittoria è per lui.